Sarà Promosport Scalea la finale regionale per quanto riguarda l'ammissione delle squadre seconde della categoria per accedere agli spareggi nazionali. Lo Scalea che pure domenica scorsa si era fatto scavalcare in classifica dalla Brancaleone è andato a vincere proprio in casa dei Regini per 2-0 con i gol di Perry e Andrews 2-0 quindi che consente ai Cosentini di andare a sfidare la Promosport che già domenica scorsa aveva staccato il pass grazie al pareggio che aveva ottenuto ai 10 punti di stacco la Regione Mediterranea che proprio nella finale del campionato si è fatta scavalcare quindi non cedere ai playoff. Invece nella zona bassa della classifica si salvano Gioiosa Ionica 1-1 il punteggio dopo i tempi supplementari per la posizione in classifica migliore della Gioiosa rispetto al Gallico Catona e il Bocale che va a vincere al sessale dopo i tempi supplementari esattamente al 21esimo del secondo tempo supplementare quindi con il gol di Cormaci il Bocale si salva e condanne il sessale alla retrocessione. Da segnalare infine che la Gioiese ha vinto il torneo regionale delle squadre vincitrici del campionato di eccellenza e promozione battendo la vigore alla mezza il DGS Braia Tortora e ottenendo così il terzo risultato della terza Coppa dopo aver vinto appunto la Coppa di categoria, la Coppa Italia, il campionato oggi per quanto riguarda invece la Coppa della Regione. Grazie a tutti!